Ciao, io sono Tommaso e oggi diamo un'occhiata a come rilincare i file con DaVinci Resolve quando compare questa fastidiosa scritta qui. Sarà capitato a tutti quanti voi, chi magari avrà trovato la soluzione da solo, chi non l'avrà trovata, quindi facciamo un breve tutorial e diamo un'occhiata a come fare un relink clip. Quando è che può succedere che compaia questa scritta media offline? Succede solitamente quando importiamo un progetto nuovo o quando abbiamo spostato i file da una parte all'altra, magari da un hard disk esterno a un altro hard disk interno o viceversa, insomma, quando spostiamo i clip e DaVinci Resolve non riesce più a recuperarli e non li trova più. L'unica maniera per andare a recuperarli è dire a DaVinci Resolve dove si trova quel file e rilincarlo direttamente, di modo che si possano utilizzare file che si trovano in altri hard disk o magari utilizzare progetti condivisi su più postazioni, cosa molto utile nel momento in cui magari ci spostiamo da casa all'ufficio ma non vogliamo portarci dietro ogni volta tutto l'archivio. Abbiamo un hard disk a casa e abbiamo un hard disk al lavoro e su entrambi gli hard disk abbiamo gli stessi file ma abbiamo bisogno di rilincare appunto questi file. Ci porteremo dietro solo il progetto che pesa molto meno, qualche byte, qualche mega. Bene, diamo un'occhiata all'interfaccia di DaVinci e vediamo di capire come andare a fare questo relink clips. Ma dove si trova il nostro file? Si trova all'interno della nostra cartella 2019-69 Venezia Real Venetian Kayak Alpha 6003 e il file numero 112 si trova qui. Quindi avremo questo file qui, ma non possiamo andare a riportarlo qui perché andremo semplicemente a copiarlo, a duplicarlo. Quindi dovremo andare all'interno della nostra media pool, cliccare con il pulsante destro e qui in basso abbiamo Reveal in Finder, quindi che ci permette di vedere dove si trova il nostro file ma a noi non interessa vedere dove si trova perché lo abbiamo già visto, a noi interessa andare a rilincare la clip che abbiamo selezionato. Quindi andiamo su Relink Selected Clips, andiamo all'interno dei nostri eventi, andiamo all'interno della nostra cartella Real Venetian Experience, ma non dovremo andare a ricercarlo noi all'interno della cartella Alpha 6003 cercando tutto il file. Sì, possiamo farlo anche così, ma più genericamente possiamo anche semplicemente dirgli di cercarlo in autonomia all'interno della cartella Real Venetian Experience, senza andare nelle sottocartelle. Ovvio che non possiamo dirgli C2 punti perché diventerebbe pazzo a ricercare la cartella, il file e via dicendo. Cerchiamo di essere più precisi possibile ma senza impazzire. E gli diamo OK e immediatamente viene rilincato il nostro file. Possiamo fare la stessa cosa anche selezionando più file contemporaneamente. Possiamo fare la stessa identica cosa anche dalla nostra pagina Edit. Vedete che effettivamente mancano un bel po' di file. E possiamo sia andare a selezionare i nostri clip e dirgli pulsante destro e Relink Selected Clips, ma possiamo anche andare direttamente nel nostro bin e dirgli Relink Clips for Selected Bin. E in questo caso andiamo appunto a dargli la nostra cartella di interesse. E automaticamente ritrova i nostri clip. Se per qualche motivo volessimo anche delincare questi clip, semplicemente con il pulsante destro andremo a fare Unlink Selected Clips. E in automatico andrà, vedete, a delincare la nostra clip. Oppure Relink Selected Clips per andare a rilincarlo nuovamente. Bene, abbiamo terminato anche questo tutorial. È stato brevissimo, velocissimo, ma sono sicuro indispensabile per tanti di voi. Ricordatevi che c'è un bel pollicione da cliccare qui in basso, c'è il pulsantone dove potrete iscrivervi a questo canale. Ricordatevi di attivare la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Noi ci vediamo il martedì con la diretta qui sul canale, il mercoledì sempre qui con le videoproduzioni, con i test e i tutorial dei vari prodotti che testo, il giovedì con le pillole di DaVinci Resolve come questa che state vedendo. A me non resta che salutarvi e dirvi che ci vediamo con il prossimo video. Ciao! Ciao!